Presentazione dei candidati di Liberi e Uguali. Oggi in Piazza Pasi a Trento alla presenza di Nicola Fratoianni, uno dei leader del partito, candidato al plurinominale a Torino e all'uninominale a Pisa. Per il collegio di Trento erano presenti Renata Attolini per la Camera, Andrea Pradi per il Senato, Ezio Viglietti per la Camera di Rovereto, Annalisa Foletti per il Senato di Rovereto, Antonella Valer per la Camera di Val Sugana, Vincenzo Calì per il Senato della Val Sugana. Per il proporzionale alla Camera erano presenti Norbert Lanschner, Angioletta Maino, Luca Modena e Giulia Motta Zanin. La presenza di Fratoianni è stata anche l'occasione per fare il punto sul programma, un programma che vede al centro due parole, diritti ed uguaglianza. Rimettere al centro della discussione politica di questo paese la vera grande emergenza nazionale, cioè la diseguaglianza che cresce ormai a ritmi insostenibili. In questo paese la grande maggioranza dei cittadini e delle cittadine in questi anni ha visto peggiorare la propria condizione di vita, ha perso salario, ha perso ricchezza, ha perso opportunità, ha perso diritti, occorre invertire la tendenza. Questo è il punto principale, da qui deriva l'impianto programmatico sul lavoro, occorre restituire i diritti che sono stati sottrati e occorre estendere i diritti a chi non ne ha, occorrono investimenti pubblici per creare nuova occupazione, occorre prendersi cura del territorio. Per quanto riguarda il fisco, la flat tax della destra ha raggiunto Fratoianni è una forma di Robin Hood al contrario. Noi proponiamo invece un sistema fiscale che investa sulla progressività. Bisogna allargare le soglie di prelievo fiscale per restituire un sistema che sia in linea con la Costituzione. In merito ai temi locali, lavoro, scuola e autonomia in testa all'agenda. Sul Trentino c'è bisogno come a livello nazionale di investire sul lavoro e sul welfare in particolare, a mio parere. Un welfare che sia inclusivo e che sia diffuso più di quello che è adesso e che consenta quindi anche un risparmio economico da parte delle famiglie. Qui ci vuole un'autonomia che deve essere interpretata in modo più dinamica, cioè che veramente tutte le presenze linguistiche lavorano e sanno che siamo una famiglia insieme.